aver accettato tutto si sente, si vede bene spero di sì vediamo chi, tra quanto arrivano adesso un po' di tempo comunque vi volevo dire intanto penso che voi due già vi siate messi d'accordo, io dico semplicemente ragazzi questa lezione è veramente, questa lezione, avere Angelo è un onore il suo libro lo ricordo ancora quando l'abbiamo acquistato, quando Vale l'ha trovato è ritornata l'indomani da me e mi ha detto ho trovato un libro bellissimo ho capito come si scrive illuminata ero agli inizissimi della mia carriera, tipo facevo la copieretta da un paio sì, quattro anni fa, da un paio di mesi quindi scrivere è sempre stata la mia passione, però tra dire e il fare c'è di mezzo il male sappiamo bene, quindi mi mancava quella cosa che mi spiegano, perché tutti ti spiegano sì, va bene, le tecniche, le cose però poi alla fine non ti fanno entrare dentro non ti fanno degli esempi e tu mi sei piaciuto perché proprio hai fatto degli esempi e quei famosi esercizi via mail io da lì ti ho scoperto quegli esercizi via mail e quello faceva parte di un funnel ma io non lo sapevo ai tempi che tu mi stavi che maledetto esatto circuendo attraverso il funnel per poi farmi comprare lì però devo dire che mi è servito quindi non è sempre una cosa negativa entrare dentro un funnel se poi ottieni quello che e poi hai bisogno è lo scopo principale io sono quella scettica e alla fine io sono quella che si occupa delle automazioni bot, cose, odio scrivere cioè non è una roba lo faccio però vabbè amen e poi passo io a revisione perché scrive delle fregnacce terribili sì, sono tutta schizzata allora gli ho detto vediamo qua posso questo libro vediamo qua c'è la solita stronzata e invece è illuminante illuminante una cosa che mi chiedo come fate a invitare un sessista amante veneratore del diavolo che usa un paio di tette per vendere più copie perché proprio quelle tette mi hanno colpito pure me in quanto donna perché molto spesso abbiamo avuto lo stesso problema che in quanto avere le tette voleva dire non dover usare altro invece noi agiamo al contrario abbiamo capito esattamente quello che volevi dire tu che poi se prendi la copertina e la metti al contrario ci sono ovviamente messaggi satanici ecco vero questo mi mancava ma chi te l'ha detta questa furbata assurda comunque ragazzi quindi potete fare poi le domande alla fine della live nulla io penso che voi vi siete già ci sono 13 persone che ci ascoltano ragazzi battete un colpo così vediamo chi siamo allora ho visto Zahira ciao tesoro io però nella chat non vedo nessuno cioè vedo la chat public bravo bravo ok Francesco dice che la F tira sempre 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 come si dice come dice che cozzalone chiuffilo per tutti e ha ragione allora dopo questa questa chicca fondamentale che fai iniziamo Angelo ti faccio la prima domanda spara allora sì innanzitutto abbiamo il titolo di questo di questo speech diciamo è Aida noi conosceremo questa bellissima o anzi no non è bellissima Aida in realtà non è questa gran figa no chi è Aida spiegacelo raccontacelo allora intanto grazie della domanda perché hai detto chi e non cosa è esatto ormai per me è una persona Aida la rappresenta una persona brava allora tutti quelli che ovviamente approcciano il libro soprattutto anche le cediste in gonnellina che pensano che in realtà è la solita formula del copywriting no attenzione interesse desiderio e azioni in realtà donna è donna e che donna perché è pragmatica e ha tutte quelle caratteristiche che a me piacciono di voi io devo dire una cosa un segreto e cioè che io da quando ho iniziato nel business ho sempre avuto a che fare con donne perché per me intanto non avete il complesso di Rocco quindi le pragmatiche propositive e soprattutto quando c'è un problema da risolverlo lo risolvete l'importante è risolvere l'importante non è chi ci mette il nome e questo per me è molto importante ecco perché molto spesso rido quando dicono ah ha messo un paio di tette le tette è una provocazione che le persone intelligenti saltano come una botola invece quelle più ignoranti non solo la vedono che guarda che c'è la botola ma ci cadono pure dentro e mentre cadono dicono mazza che cazzo e cadono così sì ma io infatti non ho avuto il minimo dubbio ho capito subito che cosa basta che ho letto l'introduzione ho capito perché ho fatto questa cosa ma soprattutto poi la provocazione è cancellata anche nella landing page perché dice chiaramente che non servono le tette comunque il punto fondamentale del perché chi è non mi bruciano le domande che poi quella è un'altra domanda che ti devo fare va bene però la prima era chi è sì esatto giusto allora chi è allora voi lo sapete bene con i social media SEO eccetera uno pensa che lo strumento è il fine in realtà è solo lo strumento allora il problema principale del perché ho scritto Aida è che tutti venivano e dicevano ma arrivo primo sono primo com'è che non comprano allora c'è questa cosa del del troppo digitale che ci ha fatto scordare del che alla fine le persone comprano dalle persone e allora io ho dovuto fare per forza questo parallelismo tra marketing e primo appuntamento se tu esci e dice una donna e vi prego traslate dal vostro punto di vista e dice allora come va prosecchino champagnino scopiamo quella la prima cosa che dice pugno in faccia e finisce là esatto allora nel primo appuntamento noi ci ricordiamo sempre dei passi allora messaggino la porto fuori apro la portiera eccetera però ci scordiamo tutto questo nel marketing in realtà essendo persone che hanno a che fare con persone nel marketing ce lo scordiamo e vogliamo trombare subito vogliamo aprirgli il portafoglio e prendere i soldi e soprattutto poi scordarci di loro vogliamo che lo fanno gli altri più che altro in questo caso appunto e quindi ecco chi è Aida è una persona molto interessante brava pragmatica propositiva è intelligente intelligente che sa come sfruttare le sue qualità non solo le tette anzi le tette non ce le ha quindi appunto è una tavola da surf ecco allora quindi stavo dicendo l'altra cosa che ti dovevo chiedere quindi mi stai dicendo facciamo una provocazione che si può vendere anche non mostrando le tette non avendole quindi mai mostrarle perché anche se si è piatte mai mostrarle anzi guarda se le mostre dai via il prodotto gratis ecco quindi chi le mostra vuol dire che non ha una strategia non ci ha capito niente e ti dirò di più io ho scritto un articolo sul blog qualche anno fa tra parentesi seguite anche il blog di Angelo Espresso Tliplo che è bellissimo pure interessante io avessi tempo mi leggerai più articoli ma non allora scrisse un post ti provo anni fa che era intitolato come farsi pagare una consulenza più o meno ed era basato su un interessante pezzo di vita che io feci a Liverpool perché un amico aveva un gentleman club e mi diceva guarda che qua entrano tutti ordinano fanno però spendono poco com'è perché perché abbiamo capito che alla fine le ragazze davano via la cosa più importante e quindi il teasing abbiamo capito che portava più income quindi generava più volume d'affari ecco perché alla fine se mostri le tette non serve a niente ecco torniamo alla provocazione del libro non serve mostrarle cioè quelle sono alla fine se le va a traslare il prodotto finale se lo dai gratis mica siamo robin hood qua no? si esatto la gente entra e non paga le ragazze mostrano e via allora non ha senso nel marketing la regola fondamentale è regala il cosa e vendi il come questo è si esatto infatti la stessa cosa ci è successo con un nostro tra virgolette cliente una persona che conosciamo che ha un locale qui a Palermo anzi è un co-working e praticamente questo tizio fa entrare tutte le persone gratis nel co-working però campa solo con il bar io dico scusa come fai a reggere una struttura ci sono è sempre ovviamente super pieno perché le persone entrano gratis per lavorare per studiare io sono sicura che se lui dovesse lui ci aveva detto che voleva cambiare business nel senso voleva iniziare a fare una cosa diversa e fare pagare a ore per stare lì io sono sicura che appena farà questa cosa avrà seri problemi perché non c'entra più nessuno perché è abituato le persone a non pagare quindi quando dovranno pagare per avere quello stesso servizio che avevano fino adesso gratis uno indispettisci le persone due ti sei bruciato tutto il pubblico perché hai trovato un pubblico di persone che non vogliono pagare quindi hai sbagliato il pubblico il target quindi infatti in più ti dicono ma come fino adesso così era pieno grazie gratis cioè è normale mi pare è giusto il valore aggiunto per carità io so sempre dell'idea che il valore aggiunto va dato però Robin Hood no infatti bisogna dare quel tanto di valore da poter poi interessare quella persona se tu per esempio non mi avessi dato valore con quelle email con quegli esercizi io probabilmente poi non avrei continuato tu mi hai dato molto valore però ha nomeato tutto mi hai lasciato con viziosetta esatto con il saporino in bocca che è gustoso però non avevo ancora volevo non volevo ancora infatti è servito quindi questa è ragazzi una tecnica fondamentale per approcciare quindi vi stiamo dicendo appunto che non è non date tutto subito e non aspettiamoci soprattutto dalla prima campagna che facciamo su Facebook che sbanchiamo il lunario lo dico ai miei seguaci ma anche se ci sono delle aziende che in questo momento stanno guardando questa live ma no ma soprattutto perché tu non stai dall'altra parte della barricata come esperto tra virgolette non sai come ragiona l'altra parte quindi intanto fate lo split test anche su 10-20 campagne infatti chi magari mi ha detto se è lamentato che mi ha visto ovunque sul feed è perché io ho 25 campagne in split testing che cercano la soluzione migliore ma se non provi non sai quindi quello dipende da che budget hai già giù si ride infatti lo sapevo io ancora entrava giù ci aiuto noi noi magari abbiamo ora budget un pochino più alti però i nostri utenti quelli che ci seguono non hanno la possibilità di fare lo split test però comunque noi diciamo sempre invece di fare tante campagne contemporaneamente magari fanne due e balle cambiando cercando di capire quale quale performa di più perché se non si abbaggia se non lo puoi fare sempre mi collego al discorso della vendita no? e quando molti mi contattano mi dicono ah Giuseppe ho fatto una campagna di conversione di traffico non funziona perché non funziona? e io dico vi vorrei dare tantissime risposte però ci sono tanti fattori in primis però l'errore che quasi sempre tutti facevano fino a un po' di anni fa era quello di fare una classica landing page dove facevano una vendita push poi è stato l'anno del funnel questo è stato l'anno del funnel quindi lead money a tutti tutto spiano chiunque ovviamente andava a regalare chi un buono chi una sequenza chi qualcosa si è capito che finalmente qualcosa bisognava dare ai utenti di gratuito per poi andare a dare diciamo poi la vendita finale la vera difficoltà è noi nel nostro lavoro andare a convincere poi il cliente a fargli capire il centro benessere così come qualsiasi altro tipo dammi un'offerta dammi qualcosa che io posso dare in cambio a queste persone e allora lì trovare una soluzione e quindi lì ti dicono ah no io non voglio fare sconti non voglio fare quello non voglio fare quello il problema è che poi a un certo a una certa ti devi imporre da questo punto di vista e questo è un messaggio che io ho fatto passare cioè non fate campagne tante per farle quando parliamo di awareness e basta diamo sempre un senso i split test sono fantastici sono bellissimi tra l'altro ormai con i contenuti dinamici voi potete fare in una campagna più contenuti e capire anche quale contenuto funziona di più o quale obiettivo funziona di più Angela ormai sarà diventato pro quindi è già nella fase di ottimizzazione dove avrà tipo splittato 40 campagne con 40 obiettivi diversi anzi 25 campagne con 25 obiettivi diversi è però fondamentale però è così Angelo tu sei in questo campo da un bel po' di tempo l'hai vista questa tendenza che c'è stato un anno in cui nessuno regalava niente poi c'è stato un anno in cui tutti davano lead magnet nelle landing si allora il problema però è che i trend funzionano ben poco secondo me la soluzione migliore intanto prima che mi dimenti perché ho anche una certa età vado vado dimenticando ti dico che va benissimo il fatto dell'aver pochi soldi per budget abbiamo iniziato tutti così io mi sono affiancato al marketing per necessità quando avevo ancora la clinica di chirurgia estetica ah cioè non c'è la clou? no l'ho venduta a ottobre quindi così però nel momento in cui ce l'avevo ho detto cacchio qua tocca a fare qualcosa perché le altre cliniche hanno il budget milionare e io sto qua qual è qual era il punto fondamentale che io al contrario loro avevo la dinamicità della clinica piccola quindi mi dovevo inventare qualcosa con un budget minimo allora se lo split testing è troppo oneroso splittate la landing page quindi fate campagna unica ma la landing page è una, due, tre è con wordpress è un plugin che fa lo split testing anche quello di google che fa l'experiment la fate chiaramente riguardo il trend sì però lasciamoli per di trend il marketing cambia prima usavamo il piccione viaggiatore adesso usiamo i social media in realtà noi siamo gli stessi ma poi dico sempre che si bisogna anche contestualizzare anche il trend non serve perché cambia a secondo del target del tipo di campagna del tipo di business non è mai ma soprattutto dipende se noi ci immaginiamo una scala con vari pioli dobbiamo capire a che punto sta il cliente cioè sta al gradino zero e cioè non sa nemmeno da avere il problema sa che c'è un problema sa che c'è sta una soluzione in giro sa che c'è la nostra soluzione è pronto a pagare allora dal punto di vista del copywriting perché a me piace soprattutto il lato psicologico del marketing se abbiamo il cliente che già ci conosce la landing page l'advertisement campaign è sicuramente differente da quello non ci devi mettere il papello insomma ok quindi è inutile fare il funnel glielo vendi guarda qua il nuovo prodotto per perdita capelli punto basta se sta al problema zero prima gli devi far capire che c'è il problema è inutile vendigli direttamente una cosa anche perché ricordo che uno vende il buco nel muro e non il trapano quindi è inutile vendigli il trapano guarda che bello a 12.000 velocità quello dici sì sti cazzi però se gli dici guarda che quel gesù cristo che volevi appendere in salotto come lo appendi a capocciate no allora ecco il trapano ecco devi intercettare qual è il problema e cercare di essere la soluzione quello che cerco di fare capire sempre a chi scrive come me copy perché l'aspetto appunto come dici tu psicologico è fondamentale dobbiamo un attimo intercettare quali sono i bisogni ed essere lì presenti per soddisfarli insomma con qualsiasi prodotto che stiamo vendendo per il nostro utente per il nostro cliente voglio dire o anche per i nostri prodotti per carità perché è possibile quindi un'altra domanda che ti volevo fare perché una cosa questa che mi attanaglia da morire molto spesso i miei clienti non sanno qual è il loro target ma sanno cioè pensano di saperlo che è la cosa peggiore Aida in questo caso cosa gli risponderebbe visto che tu sei il suo confidente allora lei mi ha detto chiaramente che bisogna chiedere a chi hai davanti no allora il problema principale l'errore che fanno in molti è ok io so chi voglio attrarre sicuramente questo vuole così potrei proporgli a eccetera in realtà no perché tu stai dall'altra parte della barricata sei il professionista e quindi non saprai mai dal punto di vista dell'utente quello che vuole e quali sono i problemi quindi dovremmo fare lo sforzo di mettere insieme questo mi pare che c'è pure un paragrafo dedicato una serie di domande da dare al cliente non cliente ideale cliente ideale ma in carne e ossa non all'ideal profile e fare domande e creare un profilo di pre e post problema cioè qual era il tuo problema prima di aver bussato alla mia porta qual è il problema che hai risolto grazie a me grazie al mio aiuto perché se lasciamo il feedback così allora come ti sei trovato eh Italia 1 5 stelle su Amazon e fin da là in realtà dobbiamo farlo uscire dalla nostra comfort zone e dire guarda io questo era il mio problema l'ho risolto grazie a te così perché alla fine chi fa yoga uno si pensa faccio apro una scuola di yoga perché ma in realtà no chi fa yoga chi fa karate chi va in palestra perde peso sì ma qual è poi il vero problema e cos'è che lo faccia fare bene o male ok allora io ritorno un attimo alla clinica il mio problema che avevo capito tardi è che era piccola che era al piano superiore di un palazzo e non aveva la vetrata sotto e cacchio questo è un problema nessuno mi vede però chiedendo ai clienti soprattutto quelli gli affissionados una mi ha detto i fields private sembra da molta sensazione di clinica privata e ha fatto eccolo là allora il problema diventa soluzione quella lacuna è diventato punto di forza facendo diventare la clinica con un VIP service capito se non vuoi essere vista vieni da me se tuo marito che questa è una frase del cliente non è che sono un genio io infatti sono loro sono loro che ti dicono quello che devi fare perché sono loro il target è fondamentalmente però non voglio che mio marito lo sappia io ci ho messo tutte le campagne e le ho basate su questo perché prima o poi certo perché prima o poi tu attrai quella persona nel senso non vuole che il marito sappia che si fa il coso mamma mia ognuno ha i suoi problemi però il punto è che poi tu attrai tutto uno stream di quel tipo di persone lì anche agitato e non mescolato dei James Bond ma quanti James Bond hai visto però pure tu te lo prendi il vodka martini l'orologio dell'aviatore quanti aviatori hai visto dentro il negozio che è vorrei un orologio perché sono un aviatore no è quello il mindset quindi chiedete 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 anzi registrate le domande perché poi quello che entra in capoccia non è quello che vanno dentro mi ha detto sul serio sì infatti mi ricordo che c'era proprio il capitolo dove raccontavi è come se fossi tu che facevi l'intervista a un tuo cliente gli dicevi proprio il tuo cliente quello che ti stava più simpatico mi ricordo questa cosa quello che vorresti ne vorresti altrimenti come lui lo prendi e lo rivolti di domande gli fai queste domande specifiche e dopo di ciò ti segni quello che lui risponde e su questo comincia a capire cercare l'utente simile utilizzando gli stessi le stesse gli stessi ancoraggi come li vogliamo chiamare gli stessi oddio punti di forza gli stessi che lui ti ha dimostrato sì me lo ricordo perfettamente questo questo capito perché mi ricordo tu stai tra i testimoni del esatto ecco si è ricordato e allora seriamente infatti non è per fare pubblicità o chissà che cosa sono fermamente convinta che questo libro possa aprire la mente di molte persone perché è con la semplicità poi soprattutto si legge che è una meraviglia perché tu hai sei simpatico come ti poni come ti esprimi e quindi col sorriso io sono una persona che è curiosa ma che detesta leggere bene quel libro io l'ho finito penso in un paio di giorni pur lavorando che per me forse l'ho finito in un giorno non me lo ricordo l'ho letto tutto poi l'ho riletto ovviamente ho sottolineato ho fatto la secchiona mi sono scritta le cose più importanti però la prima volta l'ho letto di getto bellissima e per me è rara questa cosa perché solitamente ci sono degli anni per finire un libro perché mi addormento subito io ho pensato tranquillamente a persone che hanno il ristorante i medici che tra un paziente e l'altro tra un cliente e l'altro devono comunque capiscono l'importanza del marketing ma che non hanno il tempo e soprattutto che non vogliono sentirsi dire SWOT sì esatto io lo devi fa piacere io lo devi rendere bello interessante simpatico perché l'altro inizio si fanno due coglioni così sì però lo stesso tempo è molto utile perché ti apre la mente ti fa capire quanto si sbaglia spesso a puntare subito sulla te la do subito ora torniamo al discorso di femmina ma magari ecco ma in realtà non è così perché è la donna che sceglie come mi pare che l'hai scritto nel libro è la donna che sceglie ragazzi è inutile che fate tanti figli è la donna che sceglie quindi è come se fosse è il cliente che sceglie non siamo noi che decidiamo se lui deve comprare quindi dobbiamo coccolarlo in modo tale da portarlo a fare quello che noi vogliamo è un po' brutto da dire ma alla fine questo è il nostro compito beh sì guarda c'è una grande differenza tra persuasione e manipolazione tu non puoi cambiare idea alle persone puoi solo incanalare il loro desiderio ecco perché dicono io la tua pubblicità non l'ho vista ma perché non te ne frega niente in realtà la pubblicità del ristorante quando stai in autostrada se hai fame la vedi e come perché diventa informazione certo tutto là Angelo mi chiede Anna una nostra carissima amica come si chiama il libro esattamente il sottotitolo sinceramente tranquillo lei è una nostra super fan non è una trappola comunque si chiama Aida che è un nome a parte la formula è anche un nome quindi Aida due punti scopri come attrarre nuovi clienti di incrementare le tue vendite pur non avendo le tette poi c'è un asterisco sotto che dice senza drogare eccetera eccetera stare sulle ginocchia davanti al cliente poi ti passo il titolo preciso ho messo il link ho messo il link brava super top con mare niente hai visto Anna ce l'hai ti mandiamo un cazzo ve lo vorrei dire eh eh ma non ci non ci renda la zombie eh vogliamo la percentuale ma c'è una dedica ad Anna dentro il quindi è proprio per lei ah è vero l'ho aperto l'ho aperto l'altro giorno di nuovo l'ho riesumato perché io ce l'ho ancora nei meandri del mio computer quindi ho cercato proprio sulla sulla ricerca su Cortana perché non sapevo più dove l'avevo messo e l'ho ritrovato io sì ve lo devo rileggere anzi perché è un po' che non non faccio un ripassino comunque ragazzi vi ho messo il link qui sotto quindi non vi disperate non vi preoccupate grazie no dice dice Anna no no niente trappola devo solo studiare quindi vedi ha capito cosa intendiamo abbiamo sono intelligenti sì sì no no guarda questo gruppo è pieno di donne molto intelligenti siamo molto orgogliose di questo assolutamente ma adesso anche uomini dai è che non è che proprio li dobbiamo buttare a terra questi uomini cioè sembriamo le Amazoni no no sono pure i nostri i nostri fedeli cavalieri il spirito del nostro gruppo è molto è bene molto particolare me ne vado grandi tutte e tre grande annunzio magari signore facciamo quello che possiamo allora che stavamo dicendo mi sono persa dunque 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 eravamo rimasti al ok che si il target che il cliente non sono sì quindi adesso ti devo chiedere un'altra cosa quindi si dice che l'abito non fa il monaco Aida sarebbe d'accordo con questa affermazione oppure secondo lei assolutamente ci vuole ci vuole l'abito e anche da monaco ecco scusa tu mi avevi detto prima che da poco è un bambino quindi tanti auguri quindi penso grazie sposata ho intravisto un anello mi rivolgo a te tu pensa se avessi portato a casa quel poveraccio in mutande in canotta della salute con tanto di patacca di sugo ha voglia di dire si è un bravo ragazzo giusto o no però si è presentato con la gravatta fatto bene con un certo charme eccetera veramente all'inizio si è presentato allora io con mio marito ci conosciamo da quando avevamo 17 anni quindi era un pischelletto con i capelli a spazzola e i pantaloni tipo a pinocchietto terrificanti e la canottiere dunque sì infatti non lo voleva nessuno ecco ma beh però ha avessato un sentimento positivo il punto è questo che voglio un attimo trascinare in questa mia digressione mentale tu immagina che stai su una spiaggia per esempio no immagina che senti solo il mare c'è il tuo aperitivo lì la pignacolada tutto va bene a un certo punto trovi un maiale col cilindro che cammina su due zampe no è quello è quello l'albito che fa il monaco in alba io lo chiamo vestito rosso perché mi ricordava Matrix quando io entrava nel simulatore e vedeva tutti vestiti di nero e c'era questa bellissima ragazza vestita di rosso no è praticamente la sirena dell'ambulanza che stai dietro mentre stai in macchina quello l'importante è prendere l'attenzione poi si parla del come del perché eccetera però il vestito rosso è quello è il maiale sulla spiaggia deforma intera che non te l'aspetti capito come quando noi diciamo sempre le vostre campagne devono essere differenti la vostra grafica deve colpire deve essere performante perché la gente oggi è abituata anzi è quasi stanca di vedere le campagne quindi se la tua campagna non becca il problema del tuo target non riesce a colpirlo in qualche modo sentimentalmente perché quell'immagine è bella e lo emoziona quindi se non riesce a fare questa cosa quella persona non si fermerà a cliccare a fare un'azione quindi questo si ricollega al discorso dell'abito quando fate la campagna su Facebook intanto fatelo fermare perché vi do anche una lettura andate a vedere le leggi leggere le leggi della gestato o le leggi della forma si parla di design eccetera però in realtà c'è anche un pizzico di psicologia dietro e cioè che la mente umana tende a semplificare tutto si parla di forme ma si parla anche di categorizzazione in generale di tutto quindi tu vedi una nuvola diciamo mi sembra mio nonno mi sembra un gelato quindi quando fate queste queste campagne cercate di mettere quel quid che manda in pappa il cervello diciamo ma come lo categorizza sta cosa ancora non stiamo parlando del prodotto stiamo parlando di ma che cacchio è cioè fateli fermare dopodiché poi parliamo del buco del muro capito non è un problema però intanto ci vuole quell'uscire dalla comfort zone per dire ah questa però mi sembra interessante per esempio quei commenti fascisti delle sciatiste a me fanno solo comodo perché il mio cost per click è bassissimo io ho visto il primo commento negativo dopodiché ho punzecchiato altre trappolette e adesso non si sono nemmeno accorti che non rispondo più ormai è divide ed impera capito stai là io vendo libri pago poco la campagna di facebook e così quindi punzecchiate questa è la strategia questa strategia non ce l'avevo mai pensato perché solitamente ti insegnano a non controbattere e fare cioè nel senso rispondi però con educazione con gentilezza e praticamente fatti pestare i piedi fatti pestare di sopra ma non esiste proprio però in effetti se sei simpatico tipo la ragazza dell'Inps era dell'Inps quella che ha risposto però per farti selfie non ti sai scrivere all'Inps non l'ho nemmeno letti tutti però ti dirò la verità in realtà la gente si confonde e pensa di essere un giornalista d'inchiesta in realtà ha solo una connessione internet quindi io mi dispiace vivamente che questo coronavirus sia troppo democratico se fosse un po' più selettivo staremmo tutti meglio oddio questa è un'affermazione allora io io provo io provo però vanno sempre vanno via sempre quelli buoni buoni cattivi è democratico è qualcosa che non quadra comunque vabbè vaffa un culo che parte se fosse stata una campagna avrebbe pagato poco sì esatto quindi allora perché secondo te un marketer dovrebbe che siamo un po' tutti marketer in questo gruppo dovremmo utilizzare Aida per creare la strategia per il nostro cliente allora se mi permetti io vorrei dare qualcosa gratis dal libro perché alla fine il libro sono io io sono un libro e viceversa insomma io se tu mi dai l'ok io vorrei snocciolare i punti ma proprio velocissimamente del libro sì sì vai ok perché diamo ciccia a chi ci ascolta che anche se non ha letto il libro dopo questo live potrà andare via e dire cacchio quel figlio di puttana ha ragione allora ci sono dei punti fondamentali per creare una comunicazione ed una vera strategia e cioè prendete carta e penna e colla vinilica soprattutto e cioè capite chi siete ma non Angelo Ciccio Pippo Valentina Giussi no siete un medico siete un ristoratore fate le pizze questo siete e di questo che siete siete il 70% marketer e il 30% non so ristoratore imprenditore quindi non è una cosa camasutrica comunque sia dovete vendere due andate a capire chi volete attrarre è ovvio che quello che vendete servizio o prodotto che sia risolve parecchi problemi però cercate di prendere quello fondamentale quello principale e cercate di snocciolarlo perché altrimenti soprattutto all'inizio non ci avete il budget come le campagne per fare 200.000 attacchi no? allora cercate di prendere quel problema cioè quel profilo che volete attrarre e state su quello poi problema la vostra soluzione come hai detto risolve vari problemi qual è il principale scegliete quello e partite con quello cadono i capelli ok il vostro problema risolve la caduta dei capelli perché perché ci sono quelli che vogliono andare in discoteca e vogliono avere la chioma folta ok andate su quello cercate di capire qual è la vostra soluzione cioè impacchettatela capito allora cercate di sì di dire ok io faccio questo se capisce no non se capisce niente perché tu stai dall'altra parte come abbiamo detto della barricata poi qual è l'unicità questo se capisce un po' dappertutto perché devo venire io da te no qual è l'unicità e su questo me preme anche consigliare di non fissatevi su una feature cioè quindi su un dettaglio del vostro prodotto o servizio perché se un altro ristorante vi prende vi dice cacchio però quello a servire le posate così fa più soldi ve la copia ed è finita là la cosa cercate di di stimolare un EPS cioè un emotional selling point quindi cercate di andare ad attrarre chi avete davanti dal punto di vista emozionale perché poi quello tornerà che sarà lui a chiedere il vestito rosso l'abbiamo detto cercate comunque di creare un trigger qualcosa che fa girare la capoccia e soprattutto dopo averla girata poi spippolate quello che fate importante rimozione dei paletti perché quella cosa che ti dicono è sì ma a me chi me lo dice che tu sei un bravo ragazzo e che non mi vuoi portare a letto subito allora la rimozione dei paletti è ma no ma figurati io sono bravo guarda qua la carta d'identità e questa rimozione dei paletti è la parte 1 perché la parte 2 sono i testimonial i testimonial chi sono? sono quelli che dicono guarda io sono un bravo ragazzo non ci credi? vai da Pippo che è un amico in comune te lo dirà lui e questo serve al testimone il testimone ovviamente è vero poi garanzia cercate di dare qualcosa di sincero che dice ok guarda che se questo non funziona ti ha i tuoi soldi indietro guarda se questo non è per te ti serve un altro piatto eccetera eccetera e poi date il call to action cioè cercate di fare un branding applicato all'azione finale tutto questo perché? perché deve essere applicato uniformemente a tutta la vostra comunicazione che sia social network che sia SEO che sia il sito web dovete parlare attraverso questi punti che devono essere messi da parte come moduli che poi tutto questo alla fine non è nient'altro che un mega volano della formula di Aida perché ci abbiamo l'attenzione come scrivo ok che scrivo l'attenzione scrivo prendo il vestito rosso la prendi il modulo vestito rosso e lo scrivi il maiale sulla spiaggia l'interesse alla fine l'interesse cos'è? è il problema no? qual è il problema? allora perdite dei capelli non vuoi avere i capelli più per terra più per terra che in capoccia ok il desiderio che è? è la soluzione tutto là azione è il call to action quindi avete questa realtà modulare che vi fa creare poi una strategia vera e propria sì perché molto spesso i più ti dicono ma Aida ma è una tecnica di scrittura vecchia come la cucca non è una tecnica di scrittura io sono partita così che ero convinta della stessa cosa poi negli anni ho capito che è un vero e proprio una vera e propria struttura del funnel Aida è ovunque esatto Aida la usiamo in continuo quando facciamo ti facciamo vedere quel fatto di funnel in realtà è Aida quindi è quando fai una sequenza email quando fai una landing ok esatto avete presente il landing quello è Aida l'headline attrai esatto è la stessa roba sono i punti che ha appena detto Angelo parli del prodotto lo attiri l'attenzione spieghi quali sono i punti di forza poi i punti unici 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 poi poi vai a mettere i testimonial poi la garanzia alla fine la call to action è Aida applicata quindi chi vi dice che Aida è una mera come si dice tecnica di scrittura sta dicendo una grandissima porrata che non ha capito una mazza una volta che avete i moduli l'importante è che voi avete sempre persone davanti quindi i moduli ve li giocate come vi pare quindi quel tempo che uno investe e che non perde inizialmente poi se lo ritrova sempre perché anche davanti a una persona vi dice ma tu che fai io dicevo io faccio levo dieci anni alle donne ah e come fai eh gli rispondevo ti ricordi quando ti vedi allo specchio e dici cacchio quella ruga non va via ecco io te la levo e come lo stai interessando l'hai attirato se io gli avessi detto io spalo cacca per divertimento oppure ho una clinica che fa chi se ne frega qual è il problema non è certo il botox è la ruga è che vogliono sentirsi dieci anni più giovani capito tutto l'altro esatto lui ha come si dice ha ribaltato il problema da un oggettivo problema ha trovato la soluzione lui ti ha posto il problema non ti ha posto la soluzione vedi Aida che è furba che non ha le tette si fa conoscere si fa interessare un altro quell'uomo nel libro praticamente ti racconta la storia d'amore anzi no la storia di Aida che cerca il suo uomo ideale ma non lo trova subito sì e quindi ovviamente è cinica Aida perché dice io voglio un'ideale e faccio di tutto ma questo non è sessismo questo è sapere come ottenerlo no sapere quello che vuoi e sapere come ottenerlo e non ti ha è potuto non accontentarsi alla prima poi se non volete leggere il libro a me non frega poco mi dispiace ma non no no perché seriamente con la semplicità ti spiega delle cose fondamentali che molto spesso si danno per scontate quando si fanno ricordate che quando approcciate dal punto di vista del business immaginate che state facendo un primo appuntamento sì dovete fare di tutto per non sputtarlo subito io lo so che volete scopare alla fine però insomma con garbo esatto attendete qualche giorno magari comunque c'era un nostro amico che ti chiede Aida la usi solo per un post per i post landing singola oppure la usi anche per i funnel di quattro post differenti ad esempio intanto non sono quattro post potrebbero essere è un mondo Aida sono quattro step più che post poi il resto lo faccio dire ad Angelo allora se vuoi dare ripeto vabbè mica sono così rincoglionito no non lo ricordo allora Aida è il mindset tu qualsiasi cosa crei è come se la frase è attiva o passiva soggetto verbo è predicato è oggetto quindi la stessa cosa un post cinque post dieci post l'importante è far attirare l'attenzione di chi legge e quando scrivi vogliamo parlare di testo che poi anche se un video è la stessa cosa il punto è farlo partire dal titolo farlo passare al primo paragrafo e così via fino alla fine ok perché Feltri è bravo in quello che fa anche se comunque divide perché parte dal titolo tutto là quando dice negri nel titolo o terroni alcuni ridono altri si incazzano ma entrambi non ignorano Feltri perché come diceva Elie Wiesel premio Nobel il sentimento contrario all'amore non è l'odio ma l'indifferenza finché si incazzano va bene comunque quando uno lascia la ragazza e la ragazza dice sei uno stronzo ancora c'ha un sentimento ragazzo ragazzo come dico io sempre a mio marito tu devi spaventare quando io non mi incazzerò più guarda dire che non ci tengo è finita capito esatto allora voi provocate provocate cioè allora non è che provocate dicendo con l'attacco provocate una reazione tutto là e quindi AIDA sì AIDA è un mindset più che una strategia volta solo a creare una pagina va applicata ovunque anche in teoria in un disegno sì 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 diventa una strategia integrata proprio in totale non è solo sulla sulla singola landing però comunque se usi un determinato pensiero lo devi utilizzare sia nella strategia generale ma anche in una landing ovviamente perché il principio è sempre quello solo che la landing racchiude tutto un po' tutto il funnel in un certo senso ma già come abbiamo detto poco fa deve essere un cliente preriscaldato diciamo proprio a fredda a freddo sulla landing solo la landing non serve ci vuole prima qualcos'altro guarda io ti dico un segreto nel mio funnel sul sito chi poi entra che è costantemente aggiornato tra parentesi quando uno riceve i miei articoli del blog è un funnel che copre due anni e mezzo quindi sì io aspetta quando spesso triplo già c'era il più pare di sì quando io ti ho scoperto quindi no forse di più allora perché io quattro anni fa nel 2016 massimo 2017 nel 2014 ho iniziato quindi tutte quelle cose anche lì quando fate un sito eccetera o scrivete articoli se uno entra nel vostro funnel adesso però prima avete scritto dieci articoli quei dieci li avete persi in realtà fatelo iniziare sempre dall'inizio perché quei dieci articoli li usate certo mi riattacco un attimo a Aida così concludiamo il fatto del funnel in realtà più che funnel è un frame capito creiamo un cerchio magico all'interno del quale poi noi agiamo per i pochi che non capiscono cerchio magico e che non sono interessati all'esoterismo come il sottoscritto che è il cerchio magico in realtà come diceva Steve Jobs era un reality distortion field un campo di distorsione nella realtà dove viene applicata la tua realtà allora se uno vi dico pure che sta chicca il magus e il magister in sanscrito hanno la stessa radice cioè il mago e il professore il maestro fanno la stessa cosa è il fine che cambia così come persuasione e manipolazione molti usano soprattutto ho visto i marketer recentemente che hanno il nome mezzo inglese Tony Merenda Tony Girella che cazzo non so sono proprio uno di questi usano e molto mi fa ridere perché c'è proprio una domanda che t'hanno fatto quali sono i tuoi mentori e ad esempio io seguo Frank Merenda e Marco Lozù oddio ma perché poi c'è Big Ruta allora questi qua se andate a vedere le loro landing page usano manipolazione che io siamo tutti innocenti fino a prova contraria spero che l'abbiano usata senza capire però la persuasione è quando tu fai cambiare idea a chi sta davanti facendo il loro comodo cioè dando un valore giusto al loro il loro bene la manipolazione è quando fai i cazzi tuoi capito quando gli vendi roba che fa bene a te sì certo quando gli vendi un prodotto che sai che fa schifo però li convinci lo stesso è bene questa è la differenza tra mago e magister tra mago e allora occhio a chi fa merenda con le girelle esatto allora anch'io sono super critica da questo punto di vista perché secondo me mi fa veramente troppa confusione tra quello che è la persuasione e quella che è la veramente la manipolazione sti qua che si fanno i selfie tutti ricchi che fanno vedere non lo so il jet privato ma poi vabbè evitiamo di nominare persone ho fatto proprio il conto cioè questo big luca per esempio boh è nuovo ma io non faccio nomi poi ognuno viene attratto da quello che gli piace sì infatti io pure ce l'avrei in mente una persona che secondo me è tutta fuffa però alla fine la cosa ridicola è che quest'anno sono veramente aumentati tanto cioè sono veramente tanti e hanno tutti lo stesso lo stesso schema se voi guardate le landing sono tutti uguali e hanno tutto lo stesso stile allora analizzando qual è il problema perché noi non siamo famosi come loro perché per quanto mi riguarda io preferisco vendere uno strumento loro vendono una bacchetta magica perché è più facile perché dare risposta ecco fatto la bacchetta magica in realtà anche quando fate facebook le vostre campagne dovete capire una cosa è che nessuno ha la bacchetta magica chi vi vende la soluzione chi vi vende la soluzione ha già sbagliato perché quella soluzione là era disegnata per un problema precedente che voi non avete o che se avete avete sicuramente in maniera differente esatto da una reggirella allora cercate e probabilmente quella soluzione gli funziona perché stanno vendendo un loro prodotto che è un prodotto da vendere sul web è un prodotto di formazione che è molto più semplice esatto rispetto a che devi vendere il pannello fotovoltaico di 20.000 euro di 40.000 euro come cazzo lo convince una persona e lì diventa più complicato ti può mettere la testa in giù e a piedi sotto sopra non ci riuscirai ma però qual è la cosa più complicata è fargli capire che devono alzare il culo cioè esatto allora Aida in realtà è solo il primo step a meno per quanto mi riguarda è la grammatica sta alla grammatica come un secondo libro che ho che poi è un corso sta alla scrittura delle poesie quindi gli devi dare quegli strumenti ma poi sono loro che scrivono le poesie cioè il loro pubblico è differente da quello tuo quello che scrivono loro è differente da quello che scrivi tu e soprattutto tu per quanto consulente puoi essere te lo devi far dire da loro com'è il loro business perché non lo capirai mai no? certo ma infatti a me è sempre piaciuto il tuo metodo proprio per questo perché tu non dai la soluzione mi hai fatto arrivare a come ragionare che lugubrazioni mentali devo fare per riuscire a capire come impostare una strategia come impostare un copy come impostare e tu mi hai dato proprio i rudimenti per poi arrivare dove sono io oggi che riesco a fare quello che faccio quelle persone che lavorano con me dicono che sono brava non mi piace vantarmi quindi sono gli altri che lo dicono non io perché appare giusi sempre quando giusi è un gufo magnifico ogni tanto appare rompe le palle sono le botte rompi sono quelle che lo fai vabbè quello non lo so fare perché non sono smanettona io mi devi dare da scrivere ma fare cose tecniche no 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 anche no ognuno ha i suoi punti di forza ti ho avuto un sacco di complimenti per questa live io sono felice che vi piaccia Angelo non avevamo dubbi io avevo infatti io non avevo dubbi quando mi ha detto di sì ho detto ok ci divertiamo troppo eeeh in tutto questo sono le sette è passato un'ora non abbiamo capito niente oddio che meraviglia è vero che quando ci si diverte si infatti dai facciamo un recap e poi vediamo se c'è chi è rimasto che è sopravvissuto a quest'ora vabbè che dai guardami le domande dai aspetta già uno Anna ha scritto forse una cosa io per esempio odio con tutto il cuore chi vuole insegnare da una spiaggia ah ok si chi ha le tre soluzioni e te le vuole dare delle Hawaii si si ecco esatto esatto tra magone e stronzo vuoi sapere come fare più soldi intanto aiutami a fare più soldi a me che poi te lo dico ecco esatto ma è una cosa che a me da mi da abbastanza fastidio pure infatti quando vedo queste cose cambio io ce l'ho una domanda quindi sostanzialmente bellissimo ho capito tutto io non amo dicevo io non sono un'esperta di scrittura no però quindi sostanzialmente diciamo tu dici ok questa è Ida questo è il frame io credo che la vera difficoltà per noi marketer cioè per me lo è veramente è quella cosa che tu hai detto trovare il modo di di staccarsi e di fare un 30% marketer questo è un 70% diciamo impersonificare il ristoratore lo chef diciamo il titolare di quella gestione di quell'attività che stai facendo oltre a quelle domande quindi tu consigli sicuramente di andare a registrare intervistarlo quindi fare i delle domande e cercare perché è difficilissimo secondo me riuscire a dimenticare di essere un marketer se puoi capire il business di quel di quel cliente che tu stai accompagnando in questa cosa se dovessi darci tre consiglietti al di là della registrazione quali sono i metodi pragmatici veri che tu utilizzi e metti in pratica per immagazzinare al meglio tutte le cose che il cliente può darti e può dirti cioè proprio a livello di step tu incontri il cliente lui ti dice la sua idea ok poi decidi di collaborare con lui gli fai una proposta di fare un priorittivo ok a quel punto come ti rapporti con lui cioè come come gliele fai queste domande come le raccogli le informazioni come cominci a trasformarti in in lui diciamo allora io volevo aggiungere un tassello a quello che hai detto dicendo che io non mi trasformo in niente perché è questo l'errore cioè io sono marketer e io do voce a quello che sei tu allora se tu hai il ristorante adesso io vengo da te giù e ti dico ok chi sei tutte quelle domande là che trovate nel libro tra parentesi chi sei chi vuoi attrarre eccetera dopodiché ti dico ok tu da ristoratore ce n'avrai uno di utente di cliente che ti dice cacchio è proprio buono quello che fai tu dici ne avessi centomila come lui allora l'andiamo a prendere lo portiamo al ristorante ci offriamo un caffè dopodiché metti il registratore o lo smartphone al centro e gli fai un altro tipo di domande per creare un pre e post cioè qual era il problema prima e qual è la soluzione adesso il perché stai da noi anche lì ci stanno domande a disposizione così facendo tu hai il mindset del ristoratore in quanto marketer c'hai il mindset del ristoratore dal suo punto di vista quello che vuole fa lui c'hai il mindset del cliente che è quello che lui vuole attrarre e tutti questi moduli te li gestisci nella campagna quando parli con qualcuno quando fai il newsletter è qua la chiave del certo non ti inventa niente questo è il punto non c'è la bacchetta magica devi alzare il culo andata al cliente e se tu dici ma io ho aperto adesso va bene ok hai aperto adesso non hai clienti allora non andare da tua madre tuo fratello che comunque sono i fan sfegatati ovviamente dicono bravo continua così a mamma anzi te vedo un po' sciupato mangi al plum cake no devi andare sui forum ci saranno i forum dei ristoranti bravo io lo faccio sempre allora andate là e dice senti io sto aprendo così questo è il mio coso vandrebbe bene cos'è il problema principale vostro io semplicemente a volte leggo che domande fanno e che risposte danno cioè senza volete volete un tool che però ha bisogno di un minimo di inglese andate su ask oppure andate su yahoo answer e digitate là le domande io quando ho fatto che poi ancora non è uscito il corso del copywriting io non è che mi sono inventato niente quali sono i problemi che ci hanno non so usa i titoli ok primo paragrafo primo video è come fai i titoli non è che cioè il marketing è questo è semplice capisci quello che vogliono e vendiglielo bravissimo è una storia con il protagonista il cliente che sta al centro basta noi quando abbiamo creato il nostro corso abbiamo fatto un survey e quindi abbiamo chiesto ai nostri utenti quali fossero gli argomenti che volevano che noi sviluppassimo abbiamo fatto proprio quello loro cioè abbiamo costruito proprio un corso su di loro è infatti è infatti è utilissimo grazie è una cosa più chiave diciamo che secondo me poi tiriamo fuori da questa cosa è che noi spesso ci focalizziamo troppo secondo me ne parlo proprio come errore di marketers che abbiamo noi cioè ci focalizziamo troppo sul cliente nostro ok e ci affidiamo a quello che lui ci dice quello che lui ci dice però a me non è mai venuto magari viene dopo tanto tempo l'idea di dire ok ma hai recensioni magari dico hai recensioni no come possiamo possiamo fare un sondaggio possiamo mandare un questionario possiamo fare qualcosa cioè non ci mettiamo mai a fare queste domande anche all'utente del nostro cliente all'utente del nostro cliente ed è lì che secondo me si impazzisce poi a un certo punto beh il tuo cliente come diceva Harry Ford non è che sta pagando il tuo salario il salario te lo paga quello che va al ristorante lui te lo passa soltanto quindi è inutile parlare a loro perché che ne sa quello fa le pizze che ne sa se poi va bene o non va bene no d'altronde se avessi chiesto alle persone cosa volevano mi chiedevano un cavallo più veloce va bene ma quella è rivoluzione come lo smartphone ma nel momento in cui hai fatto lo smartphone il primo iPhone poi come migliorarlo lo dice agli utenti allora beh levagli la plastica mettimi due telecamere all'inizio il primo iPhone faceva cagare pezzo di plastica metà metallo dopodiché però una volta che c'è giochi che quindi lo dai impasto al mercato attenzione voglio la telecamera davanti voglio che si attacca al computer e questo se lo dicono solo gli utenti sì infatti tra parentesi Emiliano ha scritto se hai un prodotto di merda rimane di merda anche se gli metti il profumo è vero è proprio questo comunque se infatti sono i clienti che devono dire qual è la cosa migliore perché il nostro errore Emiliano è proprio lì che noi per lo più ascoltiamo il nostro cliente e ovviamente sono tutti leader del settore voglio la spiegare che non è così mi dispiace soltanto che non vedo i nomi vedo solo Facebook user però vedo un gli metti al profumo è di Roma come me se vai nel gruppo ci sono io guardo infatti dal gruppo Emiliano Brinci che lui è pure un altro bravissimo marketer poi dentro il gruppo rivedrai la live con tutti i commenti e se c'è qualche commento e poi Angelo Piac ti chiede quando è la prossima meraviglia al prossimo capolavoro quando lo finisci allora dopo Aida in realtà c'è il secondo volume però non è per deboli di cuore perché Aida è un copre il le classiche tre cose fondamentali cioè il cosa il perché e poi il come quindi con gli esempi che sono limitati perché è una grammatica marketing concreto è praticamente Aida con gli steroidi praticamente è un cosa e perché è voluto ma anche con un come micidiale perché è una scorpacciata di esempi che fanno esplodere praticamente il come però sono parecchie pagine centomila esempi l'ho letta pure io secondo me si dico a qualcun altro secondo me l'hai data a qualcun altro perché io sono andato a vedere la newsletter col cazzo che l'hai comprato no io l'ho letto mi ricordo aspetta vediamo è l'esempio c'è l'esempio del ristorante che ce ne sono due accanto uno vuoto e l'altro con la coda hai visto hai visto quello è è un blog post in realtà marketing concreto sono 1400 pagine no io l'ho aspetta aspetta non ricordo di averlo preso scusa eh senza far marchette chi non legge Aida è inutile che lo compra ah certo è come vuole scrivere poesie senza capire come si mette soggetto e oggetto praticato verbale non lo comprate perché sprecate soldi io il rimborso non ve lo faccio ah 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 perché se sei brocchi e cattivi quindi se accattatevi Aida costa veramente due lire molto meno dell'app con cui vi fate i selfie e me fate contenta altrimenti chi se ne frega comunque sta tutto su espressotriplo.com però mi premeva con tutte queste domande avete fatto venire in mente una cosa visto che siamo nelle conclusioni eh quello che noto è che c'è sta parecchio veleno solitamente tra i market soprattutto in Italia cioè il pallone è mio e ci gioco io quindi una cosa come la stiamo facendo noi è rara molto rara perché uno si pensa che si frega i clienti a vicenda in realtà non è così quindi anche a chi ci ascolta io dico sempre cercate di circondarvi di persone migliori di voi persone che comunque vi stimolano a migliorare a vedere le cose in maniera differente e comunque anche a fregare le cose che fanno che magari le fanno meglio di voi però voi le applicate al vostro alla vostra cosa degli attrezzi no? cassetta degli attrezzi lasciate perdere che poi chi sta davanti dice io ho fatto 3000 euro al mese con questo mio prodotto e molto spesso vedi scritto ah ma sì ma guarda questo chi se ne frega cioè pure Babbo Natale mica era finto però che stimolava a creare la letterina per un fine preciso che era il regalo allora cercate di farvi spronare da persone meglio di voi è inutile stare lì a cercare anche collaboratori che sono delle pippe per emergere e fare quello figo non serve a niente se migliori insieme soprattutto con persone che spingono e stimolano guarda sono bellissime queste parole Angelo e condividiamo ovviamente a pieno questa cosa infatti proprio per questo sono una fantassima così ti avremmo detto non ne devi parlare di Aida dei tuoi libri perché sennò se ne comprano no no noi siamo una collaborazione siamo soprattutto per cioè questo gruppo nasce proprio perché come dici tu molti gruppi non mi nascondo dico però molti gruppi esistenti che c'erano di marketers in generale dal social media a quello di e-commerce sembravano delle diciamo delle quando tu postavi c'avevi le crisi dicevi oddio mi sento male adesso ora mi pionano per il culo ora ci sono i nazi che mi tirano la pietra mi insultano non è che adesso non ci insultino però per dire l'idea di questo gruppo non succede secondo me dobbiamo dare un messaggio positivo il messaggio positivo è nessuno è bravissimo nessuno è il top semplicemente io trasmetto a questa community tutto quello che ho imparo per evitare che voi perdiate tempo e ci mettiate sette ore dodici ore come ho fatto io quando smanettavo dietro queste cose quindi semplicemente l'idea è quella e poi diciamo chi ci conosce lo sa quindi noi regaliamo tantissime roba ogni giorno lo facciamo veramente per questo però diciamo veramente lo spirito di questo gruppo nasce per questa cosa specifica qua si dà spazio e voce a tutti Digital Week che è la settimana che abbiamo appunto organizzato sulle live siccome tutti regalano cose perché c'è il covid qua il coronavirus e noi già le regaliamo e quindi abbiamo detto che cazzo dobbiamo regalare non possiamo regalare niente se non dare voce il regalo più bello cioè creare delle live dove portiamo sì dei professionisti ma dove siete anche voi professionisti perché anche i membri di questa community si candidano per fare le live per chiacchierare con noi sì ed è lì anche se non fare da tutti questo dicevamo con la nostra cara sì io due cose volevo dire uno per favore fate lo sharing anche della replica che ci sono varie persone che mi danno dello stronzo che non ho avvertito come se fa questa cosa c'è un mio amico il dottor Jack Villeneuve che dice ma sei uno stronzo non mi ha detto niente non riesco ad accedere come faccio prima cosa prima cosa e poi ho visto una domanda interessante che è quello di cui parlavamo prima aspetta che scrollo che sgrullo un attimo ecco ragazzi qui ci dimentichiamo che è vero che l'online è relativamente nuovo ma in realtà è il modo di vendere sempre Emiliano è sempre Emiliano bravo Emiliano allora il problema è questo non c'è il marketing digitale c'è il marketing al tempo del digitale perché noi siamo sempre quelli quindi oggi non fissatevi col social network con AdWords con quello con SEO perché oggi puoi fare la stessa cosa che facevi anni fa col piccione viaggiatore l'importante è scegliere un canale che non sia busy cioè che non sia pieno di gente e che vi costa poco soprattutto all'inizio quindi anche il door to door della leaflet funziona tu dici sì ma tanto io la butto nel secchio no perché se stai per vendere quello che hai in garage e ti arriva la leaflet del oh vuoi svuotare il garage arrivo io gratis è come se la leggi capito allora cercate di andare oltre TikTok cercate di il bello di quando io ero giovane è che c'era tutto analogico e io fissato quei computer e dicevo portano l'intelligenza all'analogico adesso è tutto pieno di intelligenza ma non ci stanno i sentimenti quindi riscoprite un attimo le persone cazzo perché sono poi loro quelli che aprono il portafoglio e vi danno i soldi non è l'algoritmo di Facebook esatto quindi bravo mi piace sto ragazzo sai Angelo che noi abbiamo fatto una bellissima ci hanno invitato in Sicilia a un evento di digital e io bravo e abbiamo portato uno spizio che è tipo ho detto adesso ci tirano i pomodori perché si chiamava humanizza il tuo bot e c'era questo bot sostanzialmente di Facebook che però tramite un copy e tramite le immagini tramite il video tramite gli audio faceva proprio diventava umano cioè sembrava che tu stessi parlando con una persona e non però c'è il però però alla fine dicevamo questo va bene il bot va bene usarlo ma ricordatevi che dietro il bot c'è sempre una persona che risponde ci deve essere non è che siccome metto il bot me ne fotto li lascio fottere ora ci vuole quindi devo esserci sempre io che controllo che rispondo perché il bot non arriverà mai tu che crei il bot non potrai pensare mai a tutte le domande che ti può fare una persona quindi comunque il lato umano ci deve essere siamo esseri umani il bot allontano un attimo non ti permette di non dover rispondere alle 5 del mattino perennemente stare davanti al bot e c'è lui che se si occupa ti gestisce un po' come se fosse un centralino alle chiamate io lancio una sfida io lo spero a chi no no tranquilli non nulla di di particolare lancio una sfida a tutti quelli che guarderanno questa live che hanno guardato questa live che non hanno letto il libro di o anche se l'hanno letto qui l'ha letto secondo me deve ma guarda mi è capitato molto spesso di dire non lo vendere perché sennò tutti mi copiano in realtà copiano i miei strumenti no è l'arma segreta ma quello te lo dico tutti allora non dovremmo condividere niente ma tanto non ha senso però ritorniamo alla palla mia e ci gioco io e ci faccio gioco a chi mi pare è sbagliata siamo figli dei fiori da questo punto di vista quindi quello che vi volevo dire a chi ha comprato il libro quindi chi già conosceva Ida e l'ha letto sì ma una è sposata no scusa uno mi chiedeva ammazza che fighe ma i numeri no una è sposata ho detto scusa sposata quella al centro perché io ho la chat dei maledetti fuori che comunque guardano attraverso un tipo un mirror che praticamente faccio io alcuni stanno sul vostro coso sul vostro gruppo lo ricevevo un complimento da secoli grazie mi sento meglio a chi mi ha preso del libro ragazzi la vostra sfida è fare al di là secondo me cioè visto che lui sarà qui comunque ormai taggato taggatelo in questi commenti e fate i suoi esercizi quindi andate su espressotriplo.com giusto? sì com come te pare fate l'esercizio ma non ve lo dico perché c'è ripeto c'è una qualcosa in cambio assolutamente lo dico perché fare quegli esercizi vi aiuterà tantissimo veramente quindi se l'avete detto andatela a riprendere fate un esercizio e veramente quegli esercizi vi illuminano la testa e dopodiché invece se non l'avete letto la sfida è di leggerlo almeno in una settimana vi sto dando tempo una settimana anche di meno e postare la domanda qui poi se poi hanno domande facciamo un altro live cioè io tanto alla fine non so come quelli che fanno la Ferrari perché già qua fuori non c'ho un cazzo da fare sono in auto isolamento quindi voglio dire lasciamo perdere va ma anzi ancora da voi il vostro egregio presidente vi ha detto che dovete morire tutti e che dovete prepararvi a morire tutti siate pronti a dire ciao a molti dei vostri cari porca puttana quando ho sentito questa cosa mi sono toccata ho detto ma stiamo scherzando la cretinaggine di questo uomo su inglesi su inglesi ci ho capito vabbè ma che poi è la brutta copia di Trump non è che Trump sia bello è figlio è figlio è impressionante ho detto ma come cacchio ci siamo combinati abbiamo avuto Berlusconi in Italia che ha aperto le porte e poi sono arrivati questi due deficienti bifolchi malefici ma dico ma come cavolo ragioniamo nel mondo ancora nel 2020 facciamo salire al governo queste persone che sono delle a me tu ti sei messo in auto isolamento da bravo italiano ragazzi allora che vi dico per me è stato bellissimo spero che ci sarà magari un'altra live tormentate questa live con i commenti io proporrei se vi fa piacere anche live più specifiche in modo tale da dare degli strumenti no anche solo una piccola cosa ma la snoccioli come i tarzanelli certo sì i tarzanelli lo sentimo questo termine dai 16 anni grazie esatto oh via che meraviglia esatto mamma mia dipende chi hai davanti se c'avevo un 18 anni non lo dicevo quindi ragazzi perché non si capiva nei miei fatti noi sicuramente faremo altre live però se ci avete dei dubbi se ci avete delle cose specifiche che volete snocciolare esatto se facciamo una live ad hoc e via ok ragazzi chiedete chiedete sarete serviti ragazzi come sempre ringrazio di tutto sei fantastico ma figurati grazie dovrebbero essere tutti così Marco ma vero ci siamo divertite troppo io spero che ci siano anche divertiti chi ci ha ascoltato perché alla fine sì qualcuno ha scritto che mi sto divertendo troppo c'è un altro signore c'è un altro nostro cosa qua ci ha detto purtroppo devo andare via mi starei a guardare ancora però dovevo andare però c'è scritto che ci ama e che è è importante ma è donna o uomo questo chi ci ama non lo so Zahira Zahira la ragazza che abbiamo fatto la live ieri ciao Zahira chiede Emiliano Amazon lo consegna Emiliano mi dispiace per ora no devi aspettare aprile perché hanno ma non perché è Angelo ma perché hanno levato la consegna allora se ti serve il cartaceo è ovvio che Amazon lo consegna altrimenti l'ebook però a me piace più il cartaceo non che costi di più perché alla fine a me va la metà di quello che va Amazon figurate però insomma il cartaceo c'è sempre il suo perché io l'ho letto come ebook devo dire la verità lo stesso si legge bene comunque ma c'è l'uomo come serve? vado di carta però ora ma perché non riesco a inquadrare? va bene figlioli che da brava desperate housewife devo andare a cucinare grazie Angelo ragazzi è stato un piacere grazie Angelo sei fantastico grazie a voi alla prossima un bacio a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao